I farmaci biologici si definiscono così perché sono prodotti con delle tecniche di biologia molecolare. Quindi sono farmaci molto sofisticati e anche molto preziosi e costosi perché il loro meccanismo di produzione è estremamente sofisticato. Il loro costo, come dicevo, è alto ma fortunatamente sono dispensati ai pazienti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi il paziente non paga per questi trattamenti, se ne ha le indicazioni a riceverli chiaramente. E quali sono queste indicazioni? Quando è che il paziente può essere candidabile al trattamento con questi farmaci biologici? Quando ha una psoriasi grave che impatta in modo significativo sulla sua qualità della vita e che non risponde o ha delle controindicazioni, per esempio delle controindicazioni metaboliche, ai farmaci cosiddetti convenzionali di primo livello. Bene, in questi casi è legittimo e siamo autorizzati noi dermatologi che lavoriamo in strutture pubbliche ospedaliere e ospedaliere universitarie alla prescrizione di questi farmaci che hanno un profilo di efficacia e un profilo di sicurezza molto interessanti, ovvero consentono di indurre e mantenere nel tempo una remissione clinica completa o quasi completa nella maggior parte dei pazienti. Chiaramente sono farmaci molto sofisticati, come dicevo, che devono essere ben maneggiati da medici esperti e il paziente è bene che faccia dei controlli medici periodici e che sia ben selezionato prima di essere trattato con questi farmaci.